Beh, è un'idea positiva, mi sembra che sia come pensavo un uomo concreto e quindi adesso si sta lavorando per capire come completare la rosa o fare in modo che ci sia un equilibrio anche in quella insomma. Che tipo di mercato ci dobbiamo aspettare adesso che è arrivato Mazzari? Qualsiasi, vedremo cosa ci sarà in uscita e soprattutto ci potrà essere l'entrata che possa soddisfare sia il modulo di Mazzari sia in realtà quello che possa essere il patrimonio di una società.